Grazie 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 a voi che dopo 18 anni ancora venite a vedere un altro danno E' bellissimo Volevo anche ringraziare tutte le persone che voi non vedete Un po' che stanno tra di voi Un po' dietro, cioè molti, non pochi Bellissimi, fantastici che fanno tutto il lavoro di preparazione Poi volevo nominare ovviamente il coreografo Che si chiama Martino Muller Regista Gilles Maure E poi le persone con le quali ho lavorato Ho scritto quest'opera popolare Che è Bravo L'autore originale è che è in francese Luc Plamondon L'autore italiano Pasquale Panella Che ha fatto la bellissima versione Cosa vi dovrei dire altro? Io più che parlare canto Però Volevo dire due parole Prima di incantarvi questo estratto di Notre Dame Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di una cosa Più che mai Di amore Spero che sia finita Vivere per amare Amare Quasi da morire Morire Dalla voglia di vivere Amare Dare l'anima alla vita Morire Dalla voglia di vivere Con la voglia Di vivere Grazie 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 E questo è il tempo delle cattedrali La pietra si fa, statua, musica e poesia E tutto sale in su verso le stelle Sulla le frate, la scrittura e la ridettura Riccardo Coccianto, il futuro La pietra si fa, statua, musica e poesia E tutto sale in su verso le stelle Sulla le frate, la scrittura e la ridettura Riccardo Coccianto, il futuro La pietra si fa, statua, cucine e poesia E tutto sale in su verso le stelle perché il giorno non crederà oggi il giorno non crederà Grazie